Salve a tutti, oggi siamo alla loggio a cintura di Torino, infatti laggiù alle mie spalle vedete la bellissima collina dove c'è Superga che per i più è ovviamente il grande Torino. Noi sei furgoni, idraulico ed elettricista perché? Perché oggi voglio portarti all'interno della centrale termica, in diretta dal cantiere. Stanno infatti installando una pompa di calore Samsung per questa abitazione qua alle mie spalle dove andremo a realizzare tutta la parte impiantistica e ti mostrerò qual è l'equilibrio che ci deve essere in un'abitazione quando si parla di impianti, impianta pavimento, ventilazione meccanica, deumidificazione e generazione termica senza dimenticare fotovoltaico e batteri di accumulo che andranno a portare a termine questa nuova casa zero gas con fotovoltaico e pompa di calore. Quindi non perdiamo altro tempo, entro con me in centrale termica e cominciamo. Eccoci dentro il primo piano di questa abitazione qua che è strutturata su due livelli. L'abitazione che come potete intravedere dal soffitto e dalle pareti è stata totalmente riqualificata e realizzata in legno, in biodilizia. Quello che vedete alle mie spalle è tutto il materiale che dobbiamo ancora posare, tutte le tubazioni per la deumidificazione canalizzata, i pannelli per l'impianta pavimento che andremo a realizzare e ovviamente entrando qua in questa stanza ci sono tutte le cassette. Qua abbiamo il deumidificatore che dovrà essere montato, il deumidificatore fondamentale per sfruttare l'impianta pavimento in modalità estiva, tutte le varie bocchette, le predisposizioni, tutti i prodotti Enco, Enco by Cappellotto, Cappellotto azienda italiana, Enco azienda belga che produce impianti radianti, tubazioni e pannelli di altissima qualità. Abbiamo fatto tutto un impianto monomarca by Enco perché è fondamentale avere un unico cervello, un unico cervello in grado di gestire tutti quelli che sono gli impianti legati al comfort edilizio. Quindi l'impianto di riscaldamento, ogni stanza avrà testine, termostato e umidostato, l'impianto di ventilazione meccanica, di deumidificazione per garantire salubrità degli ambienti, quindi un comfort polmonare, un comfort respiratorio e la deumidificazione, quindi comfort estivo con condotti isolati, bocchette e deumidificatore. Intravedete poi sopra la mia testa, alle mie spalle, anche le predisposizioni per la ventilazione meccanica puntuale che abbiamo installato perché per cercare di ottimizzare quanto possibile quelli che sono i condotti di ventilazione e di aereazione abbiamo fatto questo mix, quindi l'impianto di deumidificazione canalizzato verrà posto qua all'interno del disimpegno e raggiungerà con semplici bocchette tutte le stanze dell'abitazione. Mentre i sistemi di incasso della ventilazione meccanica puntuale della ELTI garantiranno la purificazione dell'aria, quindi filtraggio e ricambio d'aria. Rimanendo qua nel disimpegno, prima di passare alla centrale termica, focus fondamentale su quelle che sono le predisposizioni e la progettazione. Perché? Perché grazie al nostro ufficio tecnico e al protocollo Casa Zero abbiamo gestito tutta la progettazione dell'impianto radiante, della ventilazione meccanica e della deumidificazione. E queste qua sono le predisposizioni, le tubazioni che raggiungeranno il collettore del riscaldamento che verrà posto in questa posizione qua e mandate ritorno che andranno ad alimentare la deumidificazione. Perché i sistemi di deumidificazione, di ventilazione meccanica con raffrescamento hanno bisogno spesso di un apporto da parte dell'impianto idronico, quindi dell'acqua fisicamente che andrà al nostro deumidificatore. Abbiamo calcolato le sezioni per garantire la giusta portata, quindi qua abbiamo doppia mandata perché è consigliabile nei limiti del possibile avere una zona dedicata alla deumidificazione e una zona invece dedicata per il riscaldamento e il raffrescamento che verrà fatto a pavimento. Ma ovviamente ti racconterò tutto questo in dettaglio quando il cantiere verrà terminato e torneremo a registrare, a vedere come è stato terminato. Piccola postilla per ricordare quanto è importante pianificare e organizzare in maniera adeguata il cantiere. Infatti qua ci sono le nostre indicazioni che i clienti molto saggiamente hanno stampato e incollato perché bisogna sempre cercare di coordinare quanto possibile tutte le maestranze in cantiere. Cartongestista, elettricista, idraulico che fa i bagni, serramentista e chi più ne ha più ne metta. In un cantiere è spesso complesso riuscire a gestire tutto quanto ed è bene avere una progettazione preliminare, una strategia, una squadra ben definita in partenza con dei compiti ben suddivisi perché poi nel qui pro quo si vanno a commettere errori e si rischia poi di andare a perdere tempo e di sprecare denaro. Fatte queste opportune premesse andiamo a vedere la centrale termica che alimenterà questi due appartamenti. Ed eccoci in centrale termica e così potete vedere un pochettino tutto il nostro team. Qua c'è Michael che sta gestendo tutto quello che riguarda l'isolamento termico perché come vi mostrerò e vi documenterò in maniera dettagliata successivamente le tubazioni sono tutte isolate alla perfezione. Questo è Fausto il nostro frigorista nonché elettricista che si occupa di cablare la pompa di calore Samsung da 6 kilowatt che abbiamo previsto. E qua c'è il nostro capomastro Roby, Roberto, che sta insieme a Michael portando avanti l'isolamento termico delle tubazioni. Lui è Marco, non so che cosa ci fa qua, non lavora per noi. Ecco in quest'angolo qua la nostra centrale termica. Facciamo una carrellata molto rapida e poi scenderemo nei particolari. Sopra la mia testa abbiamo le tubazioni di mandata e di ritorno per i collettori con la deumidificazione. Gruppo di rilancio con i contabilizzatori del calore. Serbatoio inerziale posto sul ritorno e vediamo poi anche tra poco perché. Unita interna della pompa di calore, pompa di calore splittata, infatti intravediamo le tubazioni del gas che raggiungono l'esterno. L'unita esterna che tra poco anche lì la vedremo. Serbatoio per l'acqua calda sanitaria, tubazioni e adduzione. Quindi tutta l'acqua che arriva dall'acquedotto viene ovviamente ridotta di pressione, dosatori di polifosfati e simili per una corretta adduzione. A seguire poi lì verrà installata tutta la parte elettrica che adesso è provvisoria, verrà sostituita e installeremo, lo intravedete là dietro, inverter solar age, trifase con ottimizzatori e poi pannelli fotovoltaici che sono già qua pronti per essere installati. Come vi ho detto sopra è fondamentale garantire al deumidificatore e al collettore del raffrescamento estivo una corretta portata d'acqua con una temperatura idonea. Per fare questo abbiamo qua un collettore isolato, le tubazioni di mandate di ritorno isolate che raggiungono il punto nel disimpegno. Queste tubazioni qua sono mandate ritorno, mandate ritorno dei due collettori e in una condizione ideale sarebbe opportuno avere altre quattro tubazioni, una per il deumidificatore al piano terreno e un'altra per il deumidificatore al piano superiore. Questo però purtroppo è stato impossibile perché bisogna anche scontrarsi con quella che è la condizione del cantiere, infatti qua abbiamo già realizzato dei fori importanti e non c'era la possibilità di far passare altre tubazioni. Per questo grazie alla nostra progettazione termotecnica abbiamo calcolato in maniera precisa quella che è la portata e la sezione delle tubazioni così da garantire il giusto apporto di acqua fredda al deumidificatore che si occuperà di supportare il raffrescamento. Andando poi nei dettagli vediamo che qua abbiamo solamente un collettore di distribuzione molto ben isolato quindi polisirolo, tubazioni anche qua molto ben isolate, rosso la mandata, freddo il ritorno e due conta kilowattora per andare a contabilizzare il calore. Per far questo ovviamente si basano sulla classica regola che ti ho già raccontato. La potenza termica è proporzionale alla portata d'acqua per il delta T, infatti io qua vado a calcolare la portata d'acqua e poi ho sensore di temperatura di mandata e temperatura di ritorno mi permette di calcolare quanto calore ha raggiunto l'ambiente. Questo è fondamentale perché questi due appartamenti lavorano con un solo generatore, la nostra pompa di calore Samsung splittata da 6,6 kilowattora, potenza più che sufficiente per garantire caldo, freddo e acqua calda sanitaria per questi due nuclei familiari. Scendendo nei dettagli abbiamo la nostra pompa di calore, tubazioni del gas refrigerante che arriveranno dall'unità esterna, mandata e ritorno, mandata valvola a tre vie che direziona l'acqua calda nel serbatoio dell'acqua calda sanitaria oppure verso l'impianto di riscaldamento. Infatti questa pompa di calore qua lavora in diretta sull'impianto, il serbatoio inerziale l'abbiamo previsto ed è stato installato solamente sul ritorno, infatti lo vediamo dalle tubazioni con il dettaglio blu. Perché questa scelta? Uno, lavorare in diretta sull'impianto è fondamentale perché? Perché mi permette di sfruttare a pieno quella curva climatica della nostra pompa di calore, ottimizzare quanto possibile l'efficienza della pompa di calore e il comfort all'interno dell'appartamento. L'inerziale è stato quindi posto sul ritorno perché? Perché la pompa di calore ha bisogno di avere una quantità d'acqua garantita e così facendo il serbatoio inerziale mi garantisce questo mantenimento. Terzo aspetto legato alla progettazione termotecnica e alla termoregolazione dell'impianto, testine termostati stanza per stanza permetteranno di gestire il riscaldamento e il raffrescamento stanza per stanza. Quindi da questa scelta impiantistica ne deriva che all'interno del collettore sarà necessariamente presente una bavola di bypass per garantire la portata d'acqua. Quindi capite com'è complesso andare a progettare un impianto di questo tipo? Bisogna prendere in considerazione tanti parametri, dalla termoregolazione alla tipologia di impianto, il sistema di generazione, la nostra pompa di calore. Le scelte quindi se serve o meno l'inerziale, se devo mettere o meno dei gruppi di rilancio miscelati o non miscelati, sono tutte in funzione di quello che è l'impianto del riscaldamento. La centrale termica è una conseguenza della progettazione dell'impianto di riscaldamento, cosa che quasi nessuno fa. Tutti si concentrano sempre solo sulla pompa di calore senza dare un contesto a questa pompa di calore, a capire quando e come funzionerà, quando e come viene gestito l'impianto di riscaldamento, su che temperature devo lavorare, come la voglio far lavorare. Ovviamente proseguendo qua abbiamo poi il nostro serbatoio d'acqua calda sanitaria con sensoristica e resistenza. Resistenza che ha la duplice funzione dell'anti legionella, perché l'acqua calda che rimane stagnante per troppo tempo rischia di favorire la proliferazione della legionella e quindi devo andare ad innalzare la temperatura settimanalmente per ridurre quanto possibile il contagio da legionella. E anche in modalità booster, perché? Perché come detto ci sono due appartamenti, due nuclei familiari, attualmente piccoli, ma un domani la richiesta d'acqua calda potrebbe essere importante ed è lì fondamentale avere un generatore ausiliario che possa andare a dare supporto alla pompa di calore. Per garantire acqua calda in quantità e in tempi celeri. Ovviamente qua il nostro capomastro sta procedendo con un aspetto che spesso è sottovalutato, l'isolamento delle tubazioni. Infatti potete notare come tutte le tubazioni sono perfettamente isolate, vabbè qua dobbiamo ancora farlo, proprio perché? Perché le dispersioni vanno a impattare in maniera importante su quelli che sono i consumi della pompa di calore, ancora più in modalità di raffrescamento, se non isolo bene, qua avrò tutte le tubazioni che andranno a gocciolare, perché? Perché l'acqua fredda porta della condensa, se ai pieni superiori abbiamo il diumidificatore che elimina la condensa, qua in centrale termica non abbiamo il diumidificatore, ne consegue che c'è il rischio di formazione della condensa e genera di disagi. Raggiungiamo l'esterno a dar fastidio al buon Fausto, questa è l'unità esterna della nostra pompa di calore Samsung. Fausto che cosa sta facendo? Ha appena fatto l'azoto, ok, questo l'azoto, l'attrezzatura frigorista, perché le pompe di calore splittate, quindi con gas refrigerante, devono ovviamente rispettare la normativa. Quindi le tubazioni che sono state insalate sono state ovviamente tutte ben isolate, perché anche qua c'è il rischio della formazione della condensa. E queste tubazioni qua, una volta insalate, devono essere pulite con dell'azoto e messe in pressione per evitare perdite. Perché? Perché il gas refrigerante, in questo caso qua, è un R32, ha un impatto ambientale sicuramente importante ed è fondamentale per una corretta installazione, quello che dice la normativa, fare questi check prima di avviare la pompa di calore, che ovviamente deve essere ancora avviata. Adesso Fausto, appena smontato quello che è la premessa in pressione con l'azoto, successivamente verrà fatto il vuoto, ok, quindi prima mettiamo sotto stress con della pressione dentro, poi togliamo il gas, facciamo il vuoto e deve essere mantenuto per 24 ore. Solo dopo arriverà poi il centro assistenza, che aprirà e permetterà al gas refrigerante, l'R32, di essere introdotto all'interno del circuito e avviare ovviamente la macchina. Questa con dimensioni estremamente compatte e la nostra pompa di calore da 6 kilowatt per due appartamenti da 80 metri quadri cada uno. Ed è lì che capite perché ogni tanto mi arrabbio quando vedo che nelle case nuove con impianta pavimento, isolamento performante, sono ancora previste caldaia a gas o pompe di calore ibride. Cioè, oggettivamente, parliamo di pompe di calore piccole che una pompa di calore da 6 kilowatt ti consuma quanto una lavatrice e ti scalda due piani di casa senza introdurre CO2 in ambiente. Capite perché delle volte mi parto nei 5 minuti. Però, con questo focus sull'impiantistica di questo cantiere, di averti dato delle nozioni importanti e utili per capire anche tu cosa fare a casa tua, o meglio, per capire quanto è importante affidarsi a una progettazione termotecnica ben dettagliata e definita. Perché come vedremo nel prossimo video, dove ti farò vedere i progetti definitivi che abbiamo fatto per questa abitazione qua, è fondamentale andare a progettare in maniera integrata tutti gli impianti presenti in casa. Non basta solamente fare la legge 10 e capire quanto disperde l'edificio, assolutamente no. Per fare una progettazione integrata bisogna conoscere le necessità del nucleo familiare, lo stile di vita, l'involucro, l'impianto di riscaldamento, tutti i vari comfort che si vogliono raggiungere. Solo così si può raggiungere lo status di casa zero, quindi zero gas grazie al fotovoltaico e alla pompa di calore, zero errori con una progettazione in partenza ben definita, una strategia definita partendo da una consulenza, trasformandola in una progettazione integrata e poi realizzandola concreta in cantiere e bollette che tendono allo zero. Perché? Perché i consumi di questa pompa di calore, i consumi di questa casa sono certificati e garantiti. La produzione del fotovoltaico anche, ergo se la pompa di calore consuma più di quello che abbiamo progettato, tireremo fuori i soldi e pagheremo noi le bollette al cliente. Stesso discorso, se l'impianto fotovoltaico produrrà meno di quello che abbiamo previsto, metteremo nuovamente mano al portafoglio. Questo è il nostro standard, questo è lo standard che vogliamo raggiungere e vogliamo promulgare in tutta Italia. Da Torino è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ne! Grazie a tutti!